Iarami sono una coppia di ematori A1 passati di merito, in classe A1. Allora, ballano insieme veramente da otto mesi. Lui è cresciuto da piccolino con me. Lei ballava con me con un altro ballerino, poi si è scoppiato, adesso ballano insieme da otto mesi. Primi classificati a giovinanza open, che sono stati selezionati per un programma televisivo, The Coach, e partiranno martedì 17 luglio per le ultime selezioni, a Sanso Maggiore. Quindi facciamogli un po' calupo a questi ragazzi, loro ci faranno vedere uno Slow Fox, poi dopo ci entreranno giù. Questi ragazzi, come ho parlato prima, che lavora per pagarsi le lezioni, lavora e studia. Lui è un grandissimo lavoratore, l'ho cresciuto da piccolino, veramente un ragazzo molto, ma molto, ma molto educato nei nostri confratti. Veramente, la prima cosa è l'educazione. Si vuole sedere? Grazie, Michalancelo. Si vuole sedere? Grazie a Arianna. Slow Fox. Ciao. Ciao. Michael Jackson. Guardate che eleganza. E non è facile parlare su questo movimento, eh? E non è facile parlare su questo movimento, eh? Though we far away, I'd be the same, you're not alone. Ok, grazie. Questo ragazzo ha studiato pure dieci danze, ha ballato le danze latine in classe A. E oltre a fare i muratori, il ballerino, lui insegna a Terlezzi in una scuola. Ok? Se qualcuno di Terlezzi vuole avvicinarsi a questo ragazzo, è molto, ma molto bravo. Ok? E sicuramente ha preso da me, perché ci mette tanto cuore. A lui mi fai da tutte le figure. Sto scherzando. Ok. Grazie, Michelangelo.